Allora, ciao a tutti ragazzi, io sono Gerardo Allora, faccio questo video, ragazzi, perché devo spiegarvi un attimo come si scarica il mio gioco Dato che è un processo lungo e complicato Iniziamo dall'installaggio Voi sapete già dove trovare il gioco, è diventato, l'ho cambiato in alfa Comunque voi lo installate, mo' dobbiamo aspettare un attimo che si installa E va anche abbastanza lentino, non so perché Ah, perché si è collegato a due dispositivi Cioè, mamma mia, raga, ve lo giuro, comunque Jerry Lord, YT Mac e Mac Eh, però Jerry Lord è venuto dopo, quindi questa è la lista dei bloccati Giusto? Mi sa di no, mi sa di no, assolutamente Riprendo Ma ha fatto così, con la mano, di tagliare Ma tanto non la taglio, questa parte Emo si lamenta No, vabbè, comunque ragazzi, a parte gli scherzi Cioè, ma si è vinta Sì, sì, si è vinta tantissimo Si è vinta, no, ma porta sulla Cina Perché è una persona molto brava, mia mamma Mi vuole tanto bene Comunque, stavamo dicendo Tra le altre cose Ma qua manca poco Siamo al 70% Ragazzi State calmi Perché qua è un processo complicato Ma complicato davvero Eh, perché Cosa bisogna fare Per giocare il mio gioco Cioè, veramente, ma non si scarica più Ho capito che sono 46 mega Però 46 mega Io ho scaricato giochi di 90 giga 46 mega mi dovrebbero spaventare Certo, però Se va a 400k A baita al secondo È normale Comunque, ragazzi Per giocare il mio bellissimo giochino Di cui avete già Dovete andare Ah, ma io l'ho scaricato da qua Sono un pirla Scarichiamolo da qua Yeee Io l'ho scaricato da qui Non bisogna scaricarlo da qui Apri Mo ragazzi Ci dovremmo risorbire Tutto quanto il processo Di scaricamento time Ma non ci dobbiamo preoccupare Perché intanto Vi spiego E vi leggo un po' Per giocare Bisogna innanzitutto Unzippare La cartella Che la cartella È una cartella zip Mo chi non lo sa fare Ragazzi Mi dispiace Cavoli vostri Eh E bisogna aprire la cartella Che si genera Andare sulla cartella Premere su project 1 E apri E prima di gio Cliccare il gioco Andare su questo qua VX-RTP-102E Una volta fatto questo Cosa bisogna fare? Bisogna andare su RPG-VX-RTP E andare su setup Cliccate su setup Vi uscirà tutta una cosa Dovete cliccare Sì Ah, ecco qua Noi ce la mettiamo Qua bella Al centro dello schermo Bisogna fare unzip Estrai tutto Estrai Eccola qua Eccola qua Project 1 Qui RPE Setup Vi apparirà questa schermata qui Dovete cliccare su sì Next Next E dovete fare install Io non lo faccio Perché già lo tengo installato Una volta fatto questo Andate indietro Cliccate su game E giocate Questo è A posto Ragazzi Direi che ci possiamo fermare qua Ciao